E questa notte in Thunderdome i grandi amici DJ producer della musica Artstyle che ha scassato l'Europa, i grandi, i grandi, i grandi DJ di questa notte al cambio in console. Lui è dello staff, lui è cuore e anima di Megadrome. E le mani vanno al cielo. 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 di Genova, gli amici di Lucca, Savona, Milano, ciao, Torino! Seguindo per istinto le scie delle comete, come avanguardia del nuovo sistema solare, è l'aria delle cose diventare irreale. Per il male, di Del futuro insieme con Prof. Grazie a tutti. 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 Madness. Do... Grazie a tutti. 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 come come... e... 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 ... 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti 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 E questa Grazie a tutti 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 e a tutti Grazie 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 a tutti